Una giornata all'insegna delle radici dell'appartenenza ha caratterizzato l'evento organizzato nell'ambito del programma Settembre al Borgo dalla Proloco Roscigno Vecchia. La Fondazione Montepruno ha accolto una numerosa delegazione di americani con origini roscignole, offrendo loro una visita guidata al Museo Storico della Banca Montepruno e un incontro nell'auditorium Michele Albanese. Gli ospiti presso la sede municipale di Roscigno hanno potuto partecipare alla tradizionale colazione dal sindaco. Il primo cittadino, Pino Palmieri, ha dato loro il benvenuto rinnovando l'impegno dell'amministrazione nel sostenere iniziative che promuovano il patrimonio culturale del Borgo. Durante l'incontro ufficiale il presidente della Proloco, Franco Palmieri, ha invitato gli ospiti americani a sostenere l'ente per realizzare il sogno di ristrutturare un'abitazione nel vecchio Borgo destinato a ospitare chiunque desideri trascorrere qualche giorno a Roscigno Vecchia. Michele Albanese, presidente della Fondazione Montepruno, ha evidenziato il valore delle radici che legano le persone alla propria terra. Oggi è emozionante, ha detto, vedere come questo senso di appartenenza abbia portato tante persone da ogni angolo del mondo qui a Roscigno Vecchia. Tra i partecipanti è anche Tom Resciniti Damond, presidente della Fondation Roscigno Vecchia Roscignoli nel mondo, e il senatore americano Mika Resciniti, che hanno entrambi sottolineato il forte legame che unisce le comunità italo-americane alle loro origini. La Fondazione Montepruno si è confermata così ancora una volta un attore chiave nel promuovere iniziative che valorizzano il territorio, le sue tradizioni e le sue persone.